Il Florian Space staglia il traguardo dei 35 anni di attività. Nacqua Pescara il 20 febbraio 1988, uno spazio nuovo, sorprendente per la città al punto da suscitare vera e propria meraviglia. Il Florian Space fu il primo teatro off dell'intera regione Abruzzo. Festeggiamo proprio oggi, perché oggi è il vero anniversario. La festa l'abbiamo fatta ieri, ma oggi, 35 anni fa, eravamo ancora lì a quest'ora a sistemare lo spazio. E poi abbiamo aperto, suscitando una grande meraviglia in tutta la città, perché non se l'aspettavo, il primo teatro off della regione Abruzzo. È un giorno veramente fantastico, che ci spinge a continuare in questa direzione per altri 35 anni. E ringraziamo anche il comune di Pescara, che riconosce a questo grande gruppo di teatro, diciamo così, l'importanza della sua storia. È una bellissima avventura, che ci ha visto compagni di strada con centinaia, migliaia direi, di artisti e con un pubblico che è cresciuto con noi e che abbiamo, come dire, abituato a un teatro di ricerca, un teatro d'avanguardia, che poi, insomma, ha la nostra cifra e continua ad essere questa. Quindi, sì, continuiamo su questa strada per tanti altri anni. Il Florian e Space, dall'ora ad oggi, ha svolto e continua a svolgere un ruolo importante di divulgazione della cultura teatrale, dell'arte e dello spettacolo nella città di Pescara. È un compleanno molto importante per il Florian, ma penso per tutta la città di Pescara, perché grazie al Florian e grazie alla famiglia Vellaccio, che 35 anni fa ha voluto provare, ricercare dei nuovi strumenti per rappresentare, per fare arte, per fare teatro, per fare tutto quello che costituisce la bellezza e siamo riusciti ad avere una compagnia che è diventata proprio una compagnia di pionieri nell'arte italiana. Siamo molto contenti di avere questa realtà su Pescara, perché ci ha permesso di far conoscere Pescara a livello nazionale e internazionale. Il Florian e Space è stato per tutti questi anni e continua ad essere un centro di vita artistica e culturale, di produzione, di ospitalità, di crescita e di interazioni. È investito di una missione importante, quella di presidio culturale nella città di Pescara. Oggi è un bel giorno per Pescara, perché il Florian festeggia questi 35 anni di attività, che sono tantissimi e che dimostrano un'attività molto sostenuta sul nostro territorio, un teatro all'avanguardia, che ha fatto spettacoli di grandissima qualità, che si è rivolto ai bambini, comunque che ha fatto crescere la cultura a Pescara e ben oltre Pescara. Quindi noi sosteniamo questa attività, siamo contenti dei 35 anni, tant'è che oggi in Comune si è svolta la cerimonia di riconoscimento di questi 35 anni con la consegna da parte mia di una targa e comunque con l'augurio che questa attività prosegua per tantissimi anni ancora per far crescere la cultura a Pescara.